E bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui nella mia serie di Pantheon Epsilon, bentornati all'intersezione 3 dove l'altra volta avevamo riportato tutte le lane ma ci eravamo purtroppo accorti che ne mancava una. E oggi quindi andremo a recuperarla, dopodiché ci sposteremo alla prossima intersezione. Ah, naturalmente se non l'avete visto, nella serie di Minecraft Ita abbiamo costruito il Tempio degli Iscritti. Quindi se anche voi volete il vostro nome nella serie, andate a vedere il video e scrivetemelo sotto nei commenti, così la prossima volta posso aggiungerlo. Allora, io adesso non so dove è la lana gialla, che è quella che ci manca, però ripartiamo qua dall'intersezione 2 e andiamo a dare un'occhiata a tutti i dungeon per vedere dove l'abbiamo lasciata. Ok, e questo dungeon non lo avevamo ancora visto, ho come l'impressione che dovremmo salire qua sopra prima o poi e anche lassù ragazzi, ci deve essere qualcosa di veramente interessante. Ma prima di tutto occupiamoci della lana che secondo me è da qualche parte su questo mega albero. Ok, laggiù vedo un ponte e una costruzione particolare, secondo me quella è la strada. Stiamo attenti perché c'è qualche bel saltino, dobbiamo cercare di sfruttare le liane, volevo dire, ma stiamo attenti perché sono sicuro che da qua in poi potranno anche spawnare i mob. Ok, già vedo una strega là sotto e quelle sono molto molto pericolose. Creeper, ok, c'è lo spawner, facciamolo fuori. Ok, quanto ci vuole con questo piccone di pietra, maledetto. Ok, ci sono anche gli scheletri, stiamo attenti, stiamo attenti. Vedo volare frecce e a proposito, le frecce noi non le abbiamo quindi il nostro arco è assolutamente inutile. Quanti sono? Quanti sono? Direi che dobbiamo passare di lato. Ok, 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 buttiamoli giù se riusciamo, buttiamoli giù se riusciamo. Fantastico, stiamo calmi, stiamo calmi. Via, 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 maledetti. Piccone, piccone, piccone. Ok, 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 fantastico. Possiamo scendere da questa parte. Vai, vai. Ok, lui è andato. Il creeper è qua sotto. Lo buttiamo giù. Teniamolo lontano. Vai, spawner, spawner, spawner. No, maledetto, maledetto, maled... Oh no, oh no, ho anche gettato la spada, ho anche gettato la spada. Non so cos'è successo, a parte che la spada è ricomparsa, stiamo morendo però. Stiamo morendo, maledetto scheletro. Ok, quanti creeper ci sono. Va bene, va bene, va bene. Calma, calma. No, sono creeper super caricati, fantastico. E lì c'è anche un altro scheletro pronto a farci cadere. Allora, facciamo un ponticello. No, 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 no. Piano, 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 avviciniamoci allo spawner e vediamo di eliminare almeno quello. No, vabbè. Ma dai. Ok, non so perché in questo momento c'è un'invasione di zombie, ma noi dobbiamo lasciare qua sotto e vedere se riusciamo a recuperare un po' della nostra roba. È pieno già di mob, ma perché? Maledetti. Mi sa che non è rimasto molto, a parte il fatto che appena scendiamo moriamo, ma... Ok, abbiamo preso qualcosa, ma siamo morti. Fantastico. Ok, ho preso una pozione della strength. Vediamo se riusciamo a scendere prima che arrivi un sacco di gente. Ok, calma. Per fortuna qua lo spawner è scoppiato. Ok, calma, calma, calma. Ce n'è un altro qua. Dobbiamo rushare, dobbiamo rushare. È l'unica via. No! Eccoci di nuovo, prendiamo quello che possiamo, il secchio. Sì, fantastico. E continuiamo il nostro rush prima che esponi di nuovo il mondo. Laggiù già c'è uno scheletro che ci aspetta. Io però voglio un attimo rimettere a posto l'inventario perché è fondamentale. E allora, questa volta siamo un pochino più intelligenti. Ci chiudiamo e possiamo metterci almeno un po' di armatura. Allora, è pieno di scheletro, è pieno di creeper, quindi dobbiamo rushare, sperando di andare nella direzione giusta. Cal- calma, calma, calma. Ok, ho preso più roba possibile, ma noi dobbiamo andare là, quindi non siamo dalla parte giusta. Mannaggia, dobbiamo tornare dentro a questo albero infernale. Oltretutto adesso non so più nemmeno da dove possiamo entrare. Ok, ok, calma, signor creeper, calma, signor creeper. Non abbiamo più, naturalmente, neanche la spada. Ok, ecco il ponte, ecco il ponte che cercavamo. Dai, dritto per dritto, dritto per dritto. Ok, siamo arrivati, ma non si collega. Facciamo un pillarino, facciamo un pillarino. Ok, una cassa. Fantastico, dove stiamo andando? Torce. Bene, dai. E ok, laggiù vedo un sacco di scheletri, uno spawner di ghast. Siamo praticamente nel nether. L'unica cosa, non sono sicuro che questo sia il punto dove possiamo trovare la lana gialla che stiamo cercando. Allora, voglio un attimo andare a vedere se c'è qualcosa magari in fondo all'albero, sotto praticamente alle radici. So che non è una grande idea tornare indietro adesso, però... Anzi, sapete cosa? Me la voglio rischiare. Dato che abbiamo l'acqua, proviamo a scendere e vedere se c'è qualcosa qua nascosto. Ok, e in effetti c'è una cassa, c'è una cassa proprio lì al centro. Non so se è la lana, oppure potrebbe essere uno di quei maledetti dischi, però vale la pena rischiare, perché se fosse la lana avremmo praticamente completato il dungeon. Rush, rush, rush. Ok, spacchiamo lo spawner. Quanto è lento il piccone di legno, quanto è lento il piccone di legno. Cavoli, cavoli, cavoli. Dove dobbiamo andare? Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. No, 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 c'è l'acqua, c'è l'acqua. Non puoi farmi nulla. Oh, stava per mandarci di sotto il maledetto, il maledetto. Ok, prendiamo l'acqua e piazziamo l'acqua sotto, così in caso riusciamo anche a salvarci. Stavo cadendo. Calma, calma, calma. Allora, piazziamo un bel blocco, piazziamo un bel blocco. Ok, ok, fantastico. Ci siamo. Vediamo cosa abbiamo trovato. Speriamo che sia la lana, speriamo che sia la lana. Anche se ho come l'impressione che potrebbe essere il maledetto, maledetto disco. Va bene, dai. Abbiamo capito che non siamo andati dalla parte giusta, quindi sicuramente la lana è in quella parte di nether che abbiamo visto poco fa. Ok, siamo di nuovo qua e adesso dobbiamo stare attenti perché si è ben riempito di mob. Io penso che laggiù è dove dobbiamo andare, quindi farei una bella rasciata e chi si è visto, si è visto. Calma, calma, calma. Maledetti, maledetti. Hanno anche knockback? Cavoli, cavoli, cavoli. No, sì, 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 sì. È la lana, è la lana. Quanti spawner? Quanti spawner? Entra, entra. No, vabbè. Loro non ci attaccano, vero? Loro non ci attaccano, vero? Se non li tocchiamo non ci attaccano, vero? Ok, lo spawner lo spacchiamo. Calma, calma. Ok. Siamo tutti amici, siamo tutti amici. C'è un bel creeper là fuori che ci guarda. Tre cuori, mangiamo queste patate che ci stanno salvando la vita. E poi vediamo se qua dentro c'è la lana, perché, insomma, dopo tutta questa fatica e tutto questo rasciare... Oh sì, lana gialla, lana gialla. Adesso dobbiamo solo riuscire a tornare indietro. Allora, io prima cosa direi che vediamo se si può scavare un piccolo tunnel. Ok, 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 siamo fuori. Rush, rush, rush. Oh cavoli, se ci prende un ghast, è finita, è finita. Fantastico. Allora, chiudiamo tutto. Chiudi, chiudi, chiudi. Ok, siamo salvi, siamo salvi, siamo salvi. Per adesso, almeno. Anche perché ora dobbiamo risalire... Anche... Maledetto. Dicevo, dobbiamo risalire anche tutta la parte qua dell'albero. E poi dovevamo anche andare a controllare cosa c'è in cima a quella cascata. Quindi adesso ci andiamo subito. Allora, dato che comunque non mi va di rivedere i nostri amici creeper lì in mezzo all'albero. E dato che dopo questo dungeon, penso, abbiamo legno infinito per il resto di tutta la CTM. Stavo pensando che potremmo fare intanto un bel pillarone per risalire in alto ed avere una vista completa di tutto il dungeon. Tanto poi lassù abbiamo detto che ci saremmo comunque dovuti andare. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Acqua, 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 acqua! No! 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 No, 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 no. Ok, siamo di nuovo qua. Adesso naturalmente saliamo lassù, passando per la parte superiore dell'albero, che dovrebbe essere molto molto più facile. L'unica cosa positiva è che ho potuto rifarmi degli utensili, almeno di pietra, perché all'intersezione la pietra c'è. La cosa negativa, oltre ad aver perso la lana, è che abbiamo perso il secchio d'acqua. E quello era fondamentale. Ok, come vedete siamo in cima all'albero e in cima a un pillar, quassù dovremmo essere lontanissimi da qualsiasi mob e stavo vedendo che da quella parte c'è un ingresso e lassù naturalmente ce n'è un altro. Ho intenzione di andare a vedere in entrambi cosa c'è prima di tornare giù a prendere un'altra lana. Ok, siamo in cima alla cascata, ma siamo entrati in questa zona tutta di ghiaccio e come vedete dall'inventario ho perso di nuovo tutto cadendo. Stiamo attenti, cosa diavolo è questa grotta? Comunque qua c'è una chest, ok, c'è dentro solo un libro naturalmente. Qua sotto c'è uno spawner, ok, ci si infila veramente in una caverna di ghiaccio pazzesca. Dove si andrà non lo so, però stiamo scendendo. C'è una chest, entriamo, c'è uno zombie, maledetto, stai lontano, stai lontano. Ok, ok, siamo dentro e qua ci dà semplicemente un arco, ci dà semplicemente un arco. È un arco fantastico, però cavoli, spero di non essere venuto qua giù per un arco perché se no potrebbe essere un disastro. Eh sì, mi sembra proprio che qua la caverna è finita e si sta riempiendo di silverfish. Torniamo indietro, torniamo indietro, anche perché ho pensato che c'è un problemino. Io non ho cibo, quindi, quindi, quindi adesso che le cosciotte stanno finendo e anche i cuori stanno finendo potrebbe essere un po' un problema. Allora, ci vorrà tantissimo, ma penso proprio che con tutti questi blocchi di legno faremo un ponte che va da una parte all'altra, così almeno stiamo al sicuro. Ok, siamo qua, ma siamo in una situazione praticamente disperata. È pieno di zombie. Li sto shottando con questo nostro nuovo arc, ma comunque ne arrivano sempre di più e non abbiamo più neanche un piccone. Perché l'ho finito e ho trasformato tutto il legno in slab, quindi, hey, non possiamo farne nemmeno un altro. E adesso, non lo so, probabilmente scendiamo un po' in stile kamikaze e vediamo cosa c'è qua sotto. Dopodiché tanto tornare dovrebbe essere abbastanza facile. Quindi vediamo. Ok, un po' di carne marcia di sicuro. C'ha il creeper, quindi stiamo attenti. Ok, ok, ce l'abbiamo anche dietro, maledetto! Ah, quanti sono! Oltretutto, senza piccone non possiamo neanche spaccare gli spawner, quindi siamo praticamente persi. Calmati, mezzo cuore, mezzo cuore. Fantastico, fantastico. Va bene, prima o poi doveva succedere. E no, 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 siamo tornati ma non c'è più l'arco. Cavoli, ok, rasciamo e vediamo se almeno siamo venuti per qualcosa oppure se siamo qua. Va bene. Cosa diavolo è questo scherzo? Cosa diavolo è questo scherzo? Ma quanti erano? Ma è una follia, è una follia. È anche un labirinto, guardate quanti sono, guardate quanti sono, va bene. Dai, direi che è meglio suicidarsi e pensare alla lana. Ok, siamo di nuovo qua all'intersezione. Ho raccattato un po' tutte le cose che avevo da parte, quindi utensili in pietra almeno e un po' di cibo. E adesso, se loro non ci fanno un attentato subito subito, il piccoletto oltretutto fa un danno pazzesco. E quanti sono, maledetti. Dicevo, adesso andiamo giù dritti per dritti alla lana e poi torniamo a casa. Ok, ecco di nuovo il nostro buco per la stanza della lana. Siamo arrivati, prendiamoci un'altra lana gialla e torniamo a casa. E non voglio più saperne nulla. Ed eccoci finalmente all'intersezione con la lana gialla. Adesso non ci resta che tornare all'altra intersezione, recuperare tutte le lane e poi andare a cercare dov'era il passaggio per l'intersezione 4. Ok, si andava da questa parte, si andava da questa parte, queste chest. Uh, sono piene di pozioni. Wow, prendiamole tutte, prendiamole tutte. No, 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 no. Non possiamo perdere le lane, non possiamo perdere le lane. Devo fare lo stacca-attacca di Stepney. Assolutamente non l'ho mai fatto, ma oggi, in questo preciso momento, dovrò assolutamente farlo. Perché tutte le lane, e dico tutte le lane, non possiamo perderle. Maledetti Creeper. Ok, incrociamo le dita. Quanti sono? Quanti sono? Ok, ha funzionato. Ci sono anche quelli super caricati. Cavoli, allora, quelle pozioni che abbiamo preso, forse, forse dovremmo usarle. Se abbiamo un secondo di tranquillità. Wow, quanta gente, quanta gente. Me lo ricordavo che questo dungeon era folle. Ok, 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 calma, 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 calma. Mangia, mangia, prendi la pozione. No, vabbè, 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 vabbè. L'unica pozione che non dovevo prendere. Pensavo fosse una della Instant Health e invece niente. Altro stacca-attacca? Assolutamente sì. Ok, è tornata almeno la visione. Devo cercare di capire dov'è che si andava all'intersezione 4. Ok, creeper, calma, calma. Allora, io ve lo dico. Ho ripreso tutto quello che c'era per terra. Se manca qualche lana la serie finisce qua perché ce ne sono di alcuni colori che sono finite. Molto semplicemente non ce n'erano più nelle chest perché le avevamo prese tutte. E quindi se abbiamo distrutto tutte le lane di un colore la serie è finita. Io adesso oltretutto sto morendo di nuovo e l'intersezione non l'ho ancora trovata quindi bene così. Allora, io direi comunque di provare a salire qua sopra perché mi pare la cosa più sensata. Ok, qua c'è un tunnel, qua c'è un tunnel. Potremmo esserci, potremmo esserci. Intersezione 4, sì, fantastico. Ed eccoci, finalmente, intersezione 4. Adesso, come vi dicevo, però la serie potrebbe anche essere finita qua. Perché se noi nell'inventario non abbiamo tutte le lane, questa sarà sicuramente l'ultima puntata. Allora, qua intanto abbiamo un sacco di cose interessanti, tra cui i secchi d'acqua che avevamo perso in questa puntata. Qua sotto c'è il teleport per l'intersezione 3, fantastico. Comunque, vedendo qua nell'inventario, mi sembra che le lane ci siano tutte. Ragazzi, ci siamo veramente salvati. E niente, qui dall'intersezione 4, io vi saluto, vi ringrazio, come al solito, dirvi sul video fino alla fine. Vi invito a lasciare like, commentare e condividere. Soprattutto iscrivervi al canale per non perdervi le prossime puntate della mia serie epica qua su Pantone Epsilon. In descrizione, come al solito, c'è il mio link Instagram, ManMaxiV. E niente, io vi saluto, bella... Iscrivetevi! Non vi siete ancora iscritti? Iscrivetevi! Iscrivetevi!